È chiaro che la sostenibilità dei trasporti marittimi è una componente significativa dell'ottenimento o meno delle sfide che abbiamo di decarbonizzazione, non tanto e non solo in Italia, quanto a livello planetario. I trasporti marittimi sono la spina dorsale della globalizzazione, circa il 90% delle merci prodotte nel mondo, almeno nella loro vita di prodotto, almeno una volta stanno a bordo di una nave, quindi è evidente che i trasporti marittimi hanno un ruolo estremamente importante e sono anche particolarmente inquinanti. C'è stato soprattutto, direi subito dopo il Covid, un'accelerazione importante, molti investimenti sono stati fatti anche da parte degli armatori, è evidente che è necessaria una forte collaborazione pubblico-privata. Perché? Perché il pubblico da solo non avrà le capacità e non avrà lo spirito imprenditoriale e il privato da solo non avrà le risorse, quindi noi dobbiamo investire molto nei prossimi anni in ricerca e sviluppo per poter far sì che una serie importante di opzioni relative alla decarbonizzazione possano prendere piede. In questo momento non c'è una soluzione, non c'è il silver bullet, non c'è la ricetta magica, ci sono una serie di sperimentazioni, il metanolo, l'idrogeno, l'LNG, l'ammoniaca. Probabilmente non tutte queste soluzioni fra dieci anni diventeranno significativi e importanti, però non lo sapremo mai se non investiamo oggi. Ecco perché c'è la necessità di fare questa forte collaborazione pubblico-privato, investire denaro, investire competenze, investire intelligenze, crederci sapendo che un pezzo di questo lavoro sarà un pezzo, fra virgolette, a perdere, ma ci permetterà di acquisire competenze importanti e soprattutto di rimanere competitivi.